Il significato di questo congresso è particolare. Abbiamo lanciato nel 2005 questa nuova maniera di fare il farmacista da dispensatore di farmaco, che rimane alla nostra peculiarità, anche a protagonista della sanità territoriale con la farmacia dei servizi, ora farmacia di prossimità. L'idea è quella che dopo questa fase, particolarmente difficile per noi, vogliamo progettare un farmacista del futuro partendo dal contributo di tutti i 103 mila farmacisti italiani iscritti all'albo. Quindi un congresso che comincia oggi e che si concluderà l'anno prossimo, proprio in occasione dell'undicesima edizione, per ragionare di quel progetto futuro che ci sentiamo di iscrivere dopo quello che abbiamo fatto in questi anni terribili del Covid. Grazie Presidente.